Ma ciao a tutti, come stiamo andando oggi? Vi piacerebbe vedere delle cose e dire wow, non le ho mai viste? Beh, se siete tra quelli a cui piace conoscere, imparare e scoprire sempre cose nuove dovete assolutamente guardarvi questo video, perché oggi vi mostrerò un mondo di novità e sicuramente almeno una volta rimarrete a bocca aperta. Cominciamo questa piccola sfida allora. Prima però vi ricordo di passare assolutamente dal canale Telegram ufficiale per trovare un mondo di sconti e spendere molto, ma molto meno che in un supermercato o centro commerciale. Partiamo! Numero 1 Cosa succede tutte le volte che andate in una strada di periferia? Beh, a parte i cartelli ZTL che vedete ma non potete evitare perché sembra lo facciano apposta a metterli meno visibili possibili, trovate tante buche che anche se di piccole dimensioni spesso rischiano di farvi scelerare in almeno 6 lingue diverse compreso oramai contico. Per questo motivo Michelin, una famosa compagnia che produce gomme per auto e Maxion Wheels, produttore di cerchi, hanno deciso di mandare avanti un'idea molto interessante, cioè dei cerchioni e delle gomme completamente flessibili. Vedere per credere, questo potrebbe salvare molte vite oltre che molte auto dalla rovina. oltre che tanti portafogli. Numero 2 Gli inchiostri tradizionali sono così noiosi e banali, non credete? Ok, forse non ho una cosa che pensate tutti i giorni, però vi ho detto sta cosa senza senso per introdurvi a questo. Si chiama Hiro Shizuku e cambia colore dopo che si è asciugato. Dai strafigo da guardare! Numero 3 Ah, i gufi, che animali maestosi! Ma ci sono un paio di cose che ora vi mostrerò e che potrebbero leggermente sconvolgervi. Avete mai visto le gambette di un gufo? Beh, non sono come ve l'aspettereste. Wow, praticamente più di metà corpo sono gambe. Ma non solo questo. Sapete che in realtà il loro vero corpo è forse meno della metà di tutto il manto esterno composto dalle piume. Sì, stanno tipo dentro Megazord o Hulkbuster di Tony Stark. Però sono davvero carini, non credete anche voi. Numero 4 La pera di Buddha. Così viene chiamata questa pera. L'avete mai vista? Non penso, anche perché viene venduta 8 dollari l'una. Chi cavolo comprerebbe una pera a 8 dollari? La prima è stata esposta nella contea di Weixian ed è stata creata da un agricoltore cinese. Non è che le ha scolpite dopo la nascita nel suo salotto? Assolutamente no, cresce proprio in questo modo con questa forma. Si chiama Haoxian Zhang e ha impiegato ben 6 anni per perfezionare il procedimento agricolo per ottenere queste pere con degli stampi. Ha detto di aver avuto l'idea ispirandosi a un mito cinese che racconta di un frutto magico a forma di Buddha. Secondo il mito, chiunque mangiasse quel frutto raro guadagnerebbe l'immortalità. Gli stampi sono formati da due gusci e devono racchiudere le pere quando sono ancora piccolissime. Numero 5 Avete mai visto un koala? Beh sì, che domanda ovvia. Lo avrete visto di certo su internet. Ma raramente sono sicuro vi sia capitato di sentire il verso. O addirittura il pianto di un koala. Beh, eccovelo in anteprima. Questo invece è il verso che fa normalmente e vi assicuro che non è così carino come loro. Mamma mia, avrò gli incubi per tutta la notte, sono sicuro. Ma ormai saprete benissimo in tanti che non sono proprio gli animali che vi aspettereste, o no? Numero 6 Vi è mai capitato di ritrovarvi un animale davanti mentre guidavate. A volte io becco delle paperelle, o un branco di pecore, o una mucca solitaria che vuole essere diversa dagli altri, oppure i cervi o ancora i gatti. Fortunatamente non ho mai fatto male a nessuno e sono riuscito a dare precedenze pure ai piccioni. Ma raramente mi sono ritrovato davanti, em, un elefante. Come in Sri Lanka, nella strada per raggiungere Kataragama, per le persone è normalissimo vedere elefanti che attraversano. Insieme a volte ai loro piccoli, cose proprio di tutti i giorni, e ovviamente si fermano tutti. Insomma, voglio vedere che cavolo prova a scontrarsi con bestioni del genere. Ci rimetterebbe la macchina di sicuro. Numero 7 Avete presente i personaggi dei videogiochi che sono totalmente neri prima di essere sbloccati in modo da vedere il loro vero aspetto? Ecco, oggi forse abbiamo capito con che materiale vengono coperti questi personaggi. Si chiama Vantablack ed è un prodotto commerciale composto da nanotubi di carbonio, ed è anche la seconda cosa più scura del mondo. Può assorbire il 99,96% della luce. Ma sono sicuro che lo avete già sentito da qualche parte nominare. Avete invece mai visto l'auto costruita proprio con questo materiale? Una bellissima BMW X6, ma bellissima davvero. Addirittura sembra fake. E non penso proprio che possa essere usata su strada alla notte. Diventerebbe davvero un'auto mimetica tra un po'. Ma non finiamo qua. Vi ho detto che è il secondo materiale più scuro, no? Nel 2019 è stata trovata una cosa ancora più nera in grado di far quasi sparire un diamante, con una percentuale di assorbimento della luce del 99,99%. Ma non un diamante qualunque, un diamante giallo, che è una delle cose più luminose del pianeta. Infatti costa 2 milioni di dollari. 8. Avete presente quando vi svegliate la mattina e dimenticate le scarpe? Andando così fuori con delle ciabatte o addirittura a volte senza niente? Beh, io sì. Spesso ci facevo pure gli incubi su ste cose. Ma qualcuno si vede che ha preso proprio alla lettera ste situazioni creando queste. Un'azienda di moda canadese ha deciso di stupire il mondo e lasciarlo sconvolto, facendo delle scarpe di vari tipi con colori e forme simili ai piedi umani. Indossandoli sembrerà che la persona non abbia nemmeno delle scarpe addosso. Alcuni pensavano che i modelli si fossero sottoposti a qualche strano esperimento modificando il loro corpo, invece no, sono proprio così e costano 10 mila dollari. Anzi, i modelli più semplici e di base. Per quelli più complessi, e belli se così vogliamo dire, si superano i 15 mila. Ok, stavolta sono costretto a dare una piccola opinione personale molto sincera. Sono veramente orribili. Ma sono opinioni personali e sembra ci siano persone a cui piacciono. Voi che dite? Numero 9 Harry Potter ha fatto sognare moltissime persone sulla possibilità di fare magie e vivere avventure in altri mondi. Ovviamente nulla è possibile, quindi mettete giù la scopa di vostra madre prima che ve la tiri in testa. Ma un oggetto in particolare forse può essere realizzato per rendere la nostra vita magica. Il mantello dell'invisibilità, qualcuno l'ha creato ed è veramente incredibile. L'azienda Hyper Stealth Corp, un'azienda canadese di tute mimetiche, sta testando la sua creazione. Il materiale flessibile che può rendere invisibili oggetti e persone è stato chiamato Quantum Stealth. È un foglio lenticolare capace di deviare la luce. Potete vedere a video gli incredibili risultati. Lo userei per coprire la mia macchina ma poi ho paura che qualcuno ci sbatta contro. Numero 10 Questa volta parliamo di una cosa molto seria. Ogni anno migliaia di poliziotti e carabinieri rischiano grosso quando fanno multe e controlli. Infatti non sono tutte brave persone quelle presenti nel nostro pianeta e gli esseri umani hanno tendenze leggermente aggressive a volte. Per questo motivo un'organizzazione americana no profit che non cerca chissà che gran guadagno dalle sue invenzioni ha inventato un robot in grado di andare a fare controlli e multe al posto del poliziotto che seduto comodamente in macchina può verificare i documenti della persona alla guida. Davvero un'invenzione incredibile che potrebbe evitare tantissimi incidenti ogni anno anche da parte di quei poliziotti che commettono gravi errori per via dello stress. Numero 11 Magari noi persone non siamo i più puliti del mondo e tendiamo a buttare più di una cartaccia per terra senza pensarci ma gli animali sono davvero molto molto diversi come dimostra questo filmato. Capite un elefante vedendo le lattine per terra ha deciso di buttarle nel cestino. Gli animali davvero tengono a questo pianeta più di qualunque altra specie. Numero 12 Sapete cosa sono le corse in bici no? Richiedono molta molta forza nelle gambe serve un allenamento tosto che devono fare quasi ogni giorno per avere appunto le gambe d'acciaio di superman. Di recente alcuni ciclisti per far capire a tutti cosa succede ogni giorno dopo una corsa hanno condiviso delle foto che vi lasceranno a bocca aperta e che quasi sicuramente non avete mai visto nella vostra vita. Vedete le loro gambe diventano così per via dello sforzo? Wow! E ripeto wow! Numero 13 No ma vi siete mai chiesti com'è lo scheletro di un riccio di terra? Beh eccovelo in tutta la sua bellezza. Un dato interessante è che questo animale ha dai 5 alle 7 mila spine nel suo manto bellissimo che ovviamente avrete capito viene utilizzato per lo più per difendersi dagli animali più tosti e grandi di lui. Specialmente i serpenti che sono proprio la loro nemesi. Possono essere carini quanto volete ma mai provocarli troppo rischiate anche di beccarvi brutte infezioni. Numero 14 Nel 2019 un canguro era diventato famosissimo per la sua prestante forma fisica davvero invidiabile e da bodybuilder ma non è l'unico. Anzi nel mondo i canguri possono diventare muscolosi come pochi animali grazie al loro particolare metabolismo. E questo video ne è una dimostrazione. Anche questo canguro ha lasciato senza parole una donna che l'ha filmato per mostrare al mondo di internet quante cose incredibili la natura riesce a sfornare ogni giorno. E tutto questo senza sostanze strane o proteine di alcun genere. Numero 15 Ogni anno moltissime persone vanno a vedere in giro per il mondo le cascate più belle mai esistite ma non sono soltanto cascate naturali quelle a cui bisogna dare attenzioni. Ce n'è una creata dall'uomo che vi lascerà senza parole. A Guiang in Cina esiste un grattacielo chiamato Liebian International Plaza che ha un hotel, vari uffici e un centro commerciale al suo interno mentre all'esterno un'incredibile cascata di 108 metri. La base su cui cade l'acqua è stata creata apposta per riutilizzare tutto ogni volta senza dover caricare nuova acqua inutilmente sprecando risorse. La bolletta per alimentare questa specie di mini diga è di circa 120 euro all'ora. Ma questa città non è nuova a certe invenzioni. È uno dei posti dove la tecnologia e le attrazioni più strane vengono situate più in fretta. Sembra abbiano anche stretto un accordo per essere tra i primi a ricevere i famosi treni Hyperloop ad alta velocità di cui si è parlato nel 2019. Se volete andare in una delle città più futuristiche del pianeta ve la consiglio assolutamente. Con questo concludiamo. Adoro cose strane del genere. Se volete vedere altri video mettete un bel mi piace e arriviamo ai 10.000. In questo modo saprò se avete apprezzato. Noi ci sentiamo alla prossima gente. Stesso posto stessa voce orario diversissimo.